drop city è un'operazione molto importante per noi nella città di milano rappresenta la possibilità di fare dei test a grandezza naturale sui modi di lavorare di domani è stato un percorso molto entusiasmante un percorso che noi come investitori e gestori abbiamo intrapreso verso la fine naturalmente lanciato dallo studio caputo e da grandi stazioni un progetto quindi di co-working verticale nel quale la base il centro e l'architettura quindi tutti coloro che lavorano intorno al mondo immobiliare e del design il l'idea di drop city nasce da una parte anche per la rigenerazione urbana che è caratteristica dei nostri investimenti e caratteristica dello scopo della nostra società immobiliare e quindi poter far rivivere un luogo storico e legato alla storia di milano fi chiuso da qualche decennio per noi era un'ottima opportunità per poter mostrare come per il mondo di domani si possano fare investimenti immobiliari ad impatto positivo la rigenerazione urbana oggi è un'esigenza è un'esigenza del mondo di domani non possiamo più permetterci di consumare risorse naturali nuove e quindi l'opportunità di poter intervenire in dei siti da recuperare questo è estremamente importante inoltre non è solo un bisogno generale ma è anche un bisogno specifico delle singole zone dove interveniamo i benefici per i vicinati delle zone in cui le società specializzate nella rigenerazione urbana intervengono sono enormi e sono immediati faccio l'esempio di piazzale loreto altro progetto che è portato da nude in collaborazione con moltissimi altri soggetti dove anche se l'investimento è di 60 milioni di euro avendo fatto fare da delle società indipendenti uno studio di impatto economico sulla zona interessata si vede come la ricaduta economica sulla zona in benessere e sia economico finanziario ma anche umano sia di più di 250 milioni quindi cinque volte l'investimento finanziario fatto e questo è estremamente importante per la nostra vita e per la vita dei nostri figli